in camera da letto, ma già mentre andai in camera da letto viene avvicinata da Corsiglia che la costringe a subire una serie di rapporti sessuali che poi continueranno nel dodgebox. Loro raccontano che la consenziente, addirittura ha sentito, Corsiglia dice che aveva avuto una semi-erezione, cose del genere. Posso dire. Facciamo sentire la versione di Silvia, poi entriamo. Mi dicevo che non volevo fare nulla, ma lui mi afferrava per i capelli e mi spingeva sotto le coperte, indirizzandomi la testa sul suo pene. Nel frattempo mi diceva, Cagna, apri la bocca, e mi chiedeva di fargli sesso orale. Inizialmente cercavo di respingerlo, ma poi, visto che lui continuava a spingermi e a tenermi per i capelli, cedevo. Mi toglieva i pantaloncini e le mutande. Io mi dimenavo perché non volevo, ma non riuscivo a contrastarlo completamente perché non mi sentivo bene. Mi ha spinto sotto la doccia, ha aperto l'acqua e mi ha spinto con la mano il viso contro la parete. Mi teneva con la mano il collo, tenendomi bloccata di spalle a lui e mi penetrava. Per due volte gli ho detto di smetterla, che era un animale, uno stronzo. Ma lui ha continuato più forte, tirandomi i capelli e baciandomi sul collo. Allora Luca, abbiamo due versioni diametralmente all'opposto, come spesso capita nei casi di stupro. Io non dimentico 1979 quando la RAI con...